Lei ha realizzato un presepe sul ponte di Rialto? Sì, l'ho realizzato questo presepe sul ponte di Rialto, ma era tre anni fa che lo avevo costruito dovevo andare in Austria. In Austria non l'hanno accettato perché era troppo moderno, allora ho detto lo lascio qui attorno nella mia Venezia. Allora questi qua sono 6.500 pezzi, per dire un piccolo particolare, per fare questo lampione sono 37 pezzi. C'è la malodonina come realmente che è nel ponte, tutte le statuine sono state modificate perché erano statuine degli vecchi presepi e questi li ho un po' modificati, ho cambiato i colori e tutto quanto per adattarli al tempo di Venezia. Dove troviamo Giuseppe e Maria? Ecco qui, Giuseppe e Maria è sopra al ponte di Rialto e dietro ci sono i ramadoli. Ho cercato di essere il più possibile vicino a Venezia, come le varie briccole e tutto quanto. Ho cercato di copiare più o meno com'è in quel posto lì del ponte. Grazie a tutti.